buongiorno ragazzi oggi esercizi per i pettorali le mani a contatto altezza del petto andiamo a comprimere ritmicamente il palmo della mano sull'altro sentiremo attivare intensamente questa zona possiamo eseguirlo sempre in questa posizione oppure piano piano elevando le braccia comprimiamo e rilassiamo elevando comprimiamo e rilassiamo abbassando le braccia sempre sul piano verticale e anche laterale verso destra e poi ritmicamente anche verso sinistra eccoci qua movimento salute alla push up grazie